Allora 30.000 mi danno Non mi faccio di votare 30.000 Non posso Vai Stiamo Sa bene sia la live Si è la notifica precisa Sto portando la voce Vedere Ok Secondi che Io ancora i messaggi non li vedo però Ok eccolo I messaggi Ok Fr4b7 Ti saluto Ma come Ti saluto perché hai iscritto Ma non devi scrivere queste cose Il paga poi Nome cinese 258TM Nebula L'oggi Sgaming Vi saluto a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Siamo su The Arcade The Light Ok questo va bene Detto anche DVD Oggetto questo Offerta Metti pronto 488TM Lo puoi fare anche dopo Come vuoi essere Ok Se livello 6 con Meg Thomas O se livello tu sei Io sono a livello 5 No io a livello 5 sono Ah se livello 6 con Meg Thomas Ok No come sto fatto Sicuro Il livello è sempre quello a testa Eh io sono a livello 5 Quasi 6 Saluta Luigi Stucchi Ciao Luigi Stucchi Davide Maglietta Davide Maglietta La partita si è disconnessa dall'oste Dominica Che è successo Quasi successo Si è disconnessa dall'oste Vuoi il killer Forza Per rinviare Per esempio Fammi Ok Invitato Saluti Saluti Marccusi Baio Ciao Marccusi Che buona c'è lui Gesù Ah mi vuoi salutare Ciao lui Gesù Eh dipende Gesù Cristo A che rank 6 A che lì No Per ora facciamo tanto solo Più avanti Ma che cosa Brax Ma che vuoi Brax non vuole nessuno Ma è vero Ma che vuoi invitare Ma se è il livello troppo alto no No Per Dio Eh ma non c'è Brax Lo vuoi Ah beh se lo vuoi fare no Vabbè se lo vuoi invitare Invitalo Intanto io a non mettere Anche non me ne fregano Sono a livello 20 Ho capito Dominicraft Ma se incontriamo quello qui Io li vuoi Io manco Ma il rank non mi interessa Manca a me Ma i punti devo guadagnare E sangue te lo dà lo stesso Dipende Da quello che fai Sono raro Sì eh rank 8 Vabbè sì Noi siamo a rank 20 Proprio Allora c'ha Non so quanto ti converso Proprio siamo fuga Ti metto la prova Ma se ti puoi vedere gli schicchi Che c'ha poi Sì Ah siamo a 28 Questo ha finito In un anno Sta giocando Da playstation Sì da playstation Da pc 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 uso solo Metti pronto Domino Non metti le pronto Eh perché stavo guardando Tutte le altre cose Come facevo mettere pronto E io ho messo pronto Perché sempre il 3 Il killer Il killer Il killer Sarebbe la mia Dei datriti Il killer Io paura Maestro mi scusi Sì ehm Ah C'è chi è rank 1 E questo è rank 1 Cosa che l'ho detto Tutti quanti altri Un è rank 1 L'altro è rank 2 Ma quant'è che ti hai giocato Sicuramente non da poco Perché non ci credo Noi ci giochiamo dalla settimana Almeno io sì Tu Due giorni tu Anzi uno Da ieri sera Ragazzi dateci consigli I consigli sono sempre accettati Se volete Ah sì Ieri sera Non conterebbe neanche Perché ho fatto praticamente Tutto In 15 minuti E una partita Ha giocato un anno Dominicraft Ah ciao Due giorni Due settimane Ma non ci credo Mi hanno detto Mi hanno detto Come fai a essere rank 1 A giocare 2 settimane Scusami Ma c'è il giocare Come si chiama da Cioè Non è possibile sta cosa Come fai a essere rank 2 settimane Anche 9 Vabbè è vero che Dipende pure dalle persone che hai Se incontri Cioè Dipende pure da come giochi Se hai gli skill check Forti o meno Perché mi hanno detto A me che gli skill check Violi li puoi avere subito Prodizialmente Però devi trovarli Nelle tele Se no niente Caricamento 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 Vi consiglio Se siete killer Prendete la strega Ma la strega Si scioppa Quindi dice Il mio consiglio Su potessi essere killer Shoppata Ecco il suo consiglio Come killer camper Ah fai schifo allora Brutto La brutta persona Se il camper Riconduce una persona Non si campera mai Comunque E poi la killer campera C'entriamoci a trovare generatori Perché mi ha perso Il sabattaggio O il campanaro Il campanaro è forte Diventa invisibile Per tutta la partita Poi svuca C'è uno che è stato già felice Eh Eh notato C'è tanto che non sono stato io Il primo Allora È vicino Dominic Ti dico chi è Eh Me lo trovo Sul cassetta È stato appreso Infatti Quello che dico pure io Se il camper è te è easy Dai Stai là come un'idea Da fin quando non muore È ovvio che vinci Uh Ho trovato Non so La cassetta di medikit Io non trovo Generatore Dominic Aspetta Io Aspetta Anzi Forse Ecco il killer Ecco Non trovi mai il killer Allora Se l'aiuto di te posso Sarà tranquilla Io sto riparando Sì sì Io c'ho il killer È porto Ragazzi se lo leggiamo la giotta È perché fidatevi che non è qua Ragazzi io non sono bravo Con gli skrillex Skrillex Ah beh È nonno quello che è No skrillex Ah ma c'è La maledizione di chi È la cacciatrice Ma perché è così strano questo È la maledizione di qualcuno Mi risolto di È diverso È un killer speciale Per un millimetro Per un millimetro Ok ce l'ho fatto Questa è la maledizione Che è il killer? La strega La strega No come la strega No Speriamo di no No raga ma è fortissima Cioè dobbiamo Prendere il punto rosso Per fare il coso Domenica Se no non funziona È impossibile Cioè raga come fai? Come facciamo? Il punto là Come andiamo a fare il punto rosso? Una quintata E ci credo Ma è basile il punto rosso Che è troppo all'inizio Ma ci ha acquistato Ma non sono discesi Dovamo mettere attento Sai che cosa è la strega? Questa è la strega Dovete purificare i totem E dov'è? Chiararlo prima Dobbiamo trovare quindi questi totem Domenica E lo si trovano questi totem? No Che è la domanda Lasciami far Sei anche brutta È il nuovo killer Ma che no No non è il nuovo killer Il nuovo killer Ancora deve uscire Il nuovo killer Ma una paralisi secca Mi è spuntata così Domenico È per la strega L'ho stunnata L'ho stunnata Due secondi È apparsa lì Domenico Sì sì È fa così Ti fa aprire una paralisi Una paralisi secca Grazie anziano Io sono l'anziano Ma sai che è ancora lì? Andiamo Ma guarda Ma non ho capito ragazzi Perché c'è la strega Cioè Voi voi giocate sotto terra Ma non è un Incredibile sta cosa Eh no Quante veloce Ma che ho fatto a colpirti Se ce l'ho io Scusami tanto Che si sdoppia Ce l'ho data? Sì mo Eh no ce l'ho io Ma come si fa? Moltiplica Ragazzi questa cosa è strana Sa strega veramente forte Eh Ma perché siamo proprio contro la strega Poi non ho capito Ma veramente Ce l'hanno buffata tutti quanti in charge Grazie ragazzi No la strega non si può Cioè Perché noi siamo più iniziati da poco Se si dice Io sono morto Niente Eh io sono a terra Sto cliccando cerca aiuto Io non posso aiutarti Devi sperare nel compagno Che non si sa Mi sa che qualcuno cerca rogne Si può te reasportare Ah ecco Ma che bello Eh abbiamo fatto Che bello iniziare così Che bello Lei mi ha iniziato a me Raga ma una domanda Ma cosa fa Dwight? Me l'ho spiegata Che serve Dwight No Dwight Ah Un lanciato legato Ah Un generatore No strega No lascia Ah cioè Prima prendo te Poi veno Trappi Già E' brutto Stano guardi Eh si Non è Ragazzi Cosa fa Il Capitan Findus Capitan Findus Ma quale trappole Raga Non ci sono trappole Io trappole ancora Non ho viste Ah si Le trappole Ah eccole Sì Ma siamo morti Zeta Flavio 10 euro Per la sponsorizzazione Non sape di me Ma Zeta Flavio Non era quello infame Di là Le di Di adesso Ma abbiamo perso Io quinto Domina Abbiamo perso tutti quanti Vediamo quanti Simploni Mi hai dato Aspetta Lo scrivo Raga Cosa Fa Capitan Quello ho potenziale Esci Domini Sei chi è il capo Del lobby Io tu Non mi ricordo Io vero Io non sono Ho fatto abbandonare Eh non devi fare abbandonare Io mi dovevo muovere Il capo Vabbè dai Rinvitami Ok Devo arrivare 4.000 più 4.000 Adesso Quindi ho 8.000 No era la verità Tu eri quello del TS Non eri quello del TS Che ne so io Qual era Leggi il messaggio No raga Iscrivetemi il messaggio Io voglio capire Cosa fa Sto Capitan Fingus Comun Io ancora non l'ho capito Ma no Ma che vuoi L'altro vuole La sponsorizzazione Che sei un raid No no Lui no Qui c'è persa Tornare 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 Ma che vuoi Ma che vuoi Ma che vuoi Una Ma arrivo Un man Zeb Ragazzi A dom Non piace Zeb Allora Il sud Ve lo dico eh Addomo Non segue Non pizzer Ok io Poi la prossima live Userò questa Allora Come solitutto Vi consiglio La nera Clodent Perché io Quella Infatti Lo ha 15 Ma so che devo Fare una missione Per i cosi Ma io uso la nera Ma mi sennò già io Ah sì La cosa cooperativa Mettiti Clodent Sì Bro ma No Io non la uso Perché No Addomo preferisce Meg Thomas Che è più veloce Così Non c'è sento Adesso Io ce l'ho a 15 Gioco da Da tre giorni Clodent Perché l'ho formato Un botto Ma piuttosto Ma mi dite come funziona Il Capitan Findus Che voglio ancora capirlo E voglio sapere Come li fa A dare I pesci Cioè perché Ma chi pensi Eh sì Capitan Findus Sì ma No A partito scherzo Avrà un potere Utile Cioè Clodent OP Meg Thomas È veloce Come vedrai C'è Meg Thomas Domini Graff Tu non lo conosci Vero No Come non conosci Meg Thomas Non ti deve guardare Lui Che ti fa Ma Ok Capito Ha scritto Jack One Realmente Meg Thomas Se no che ti guarda E sei a livello 3 Ti one shotta Subito Senza il secondo colpo Così Il secondo colpo Ti fa Ma che bello Qui Non lo guardare mai Negli occhi Perché sono nel basement Così Così brutto Ora Entri nel basement Apparece a lui No io vado Prax Fai il gradasso A noi ti devo Di soltare No Dice che Il gioco Perché Poi l'ho sostituito Ma non è vero Ma perché Dovrei essere sostituito Non è vero Mi interessa A chi che hai sostituito Tu Ma che ne so Dici che può correre Non faccio giocare Con i far percchio Vabbè raga Giocate Venite E dopo Venite Però se poi Ci sono i killer Troppo più Non mi viene niente A me Ok Questo abbiamo fatto È già buono Ma c'è già Riparatura Ah perché ha scritto Sto ragazzo Mecol Myers Vi posso Sto chiarare Se arriva al 3 Vi uccido in un colpo Infatti Ve lo ho detto a Dome Eccolo Dome da me Mecol Myers Io te lo dico Ma il male non sia da me Grazie Sono molto gentile Non lo fare farmare Eh va bene No comunque Io non ho Comunque Giuseppe Se vuoi venire Vieni Però non è il senso Se incontrivo Sono troppo fortini Non gioco Cioè che più c'è Non posso curarmi Che devo fare Io sto Io sto riparando In colpo Comunque Jack Io vi c'è Domenico Che se giochiamo Con persone di tranca alto Incontriamo quelli più forti Che vera sta cosa o no Ditelo Non lo so Se è vero o no No ma 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 livello 2 per le tue informazioni a rival 3 one shot quindi al 3 one shot è pericolo? si te lo si hai visto che Jack ha detto? Jack ha scritto è giusto hai ragione cazzo hai visto? chi dove fa? ah eccolo dopo lo rendiamo i commenti eh vabbè pazienza ah questo è il totem quello che dovevamo purificare eh a me mi ha preso però ci sta dai dai accecolo 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 io sto purificando un totem accecolo 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 non è ma dove sono gli altri 3 cose adesso? ok l'ho purificato ma è qua il chile? eh no vieni da minicraft no c'è il chile? cioè non venire non venire non venire volevo dire stavo vedendo stai scamperando sto infame come si? tutti qua siamo tutti qua siamo provo a tentare la fuga dai skill based niente provate bravo salvami salvami non mi ha visto dai non con me no però quindi Jack conviene o non conviene giocare con quelli con voi che siete il rank 1? no vabbè io lo chiedo noi possiamo giocare per il punto è come come facciamo a vincere se noi non abbiamo skills non abbiamo perk forti cioè il gioco l'abbiamo iniziato da poco io da una settimana e Dom me l'ha comprato ieri sera ce l'ha ce l'ha da ieri sera ci gioca da ieri sera quindi che dobbiamo fare? io non posso fare una partita a dimostrazione vi faccio vedere che che non veniamo subito e incontriamo quelli forti coscietta Dominica no che non mi conviene dovete ancora imparare molto vedi? ma Dominica sta leggendo? non lo sto dicendo io lo so hai visto? non è che io non voglio nessuno io sto dicendo la verità è vero che è a imparare ma è ingiusto che non possiamo giocare con i fan è giusto o è ingiusto? non ho capito è ingiusto che non possiamo e ho capito e se ma se Jack ma se a me mi hanno detto che se noi giochiamo un po' il rank 1 incontriamo quelli più forti cosa facciamo a a pingere? ci capisci no? ti ricordi cosa ho detto del momento mori no? che è che ha fatto a farmare Michael Myers? è altra Michael Myers per tutti i formati non è per sempre eh? perchè qui è scendo di livello però comunque Jack vuoi spiegare comunque qua c'è il momento mori il momento mori come si chiama? Dominica cos'è? non c'è il match ancora dove? io sto già scappando dove sono gli ultimi due? ma voi dove siete? tutti quanti vivi eccone uno eccone uno ripara no il momento mori ma perchè tutti qua abbandonati tutti quanti qua? niente ti dico la verità ah per un minuto dura il livello 3 Dominica voi dovete riscendere e rifarmarci hai capito che non lo devi fare guardare Dominica? a me mi ha capito te l'ho detto eh ti ha one shot alto l'ho detto io beh non è proprio one shot alto si non lo vivo eh ok adesso è sceso di livello se c'è la musichetta hai capito? in questa stanza che arrivo eh beh non è non mi ha one shot alto mi ha peso quindi non sono solo morto si è one shot alto e ti ha buttato subito a terra come vedi non è che ti ha fatto fare livello ti ha ferito ma io one shot intendo è il killer è il killer e l'ansia o no? non lo vedo eh eh io sto ti vedo no? eh sono morto perchè mi abbandonno mi parlano i miei genitori non lo podi ma ve lo guardai zerà bello rasry biiiieiieieee Adam vedo il stolen commento di Jack comunque qui vale adesso sta riparando si curata il ultimo SI averne ovunque si ma se ne vanno non mi avvisano Ah, piccioletina, vieni Comunque te lo leggo io, allora al momento mori Dopo essere stato uccidato una volta, se ti metti ancora a terra ti può uccidere sul colpo Sì Sbagli di schicci, è questo, vabbè Via Ora che dopo possiamo fare una partita di prova, eh, però Non so quanto resistiamo Io sto riparando un colpo, eh Io se vengo a preso ancora una volta sono morto, sicuro Grazie, giocare a free 3, non ci dovrebbe essere un momento mori Io ce l'ho, io ce l'ho E l'ho fatto anche farmare, da... Niente, sono morto Ma perché oggi sono palle? Io non capisco Niente, raga, faccio schifo Mi distredo mia madre, leggo pure la gialla, non capisco, sì Vabbè sono morto, io devi portare al basement O no? Sono morto, giusto? Eh sì, vabbè Ancora uno che ne manca Tu puoi vincere ancora Ce ne manca uno Leggo un po' la chat Eccolo L'ultimo L'ultimo No, la... no Infatti Axel ha ragione Maledizione Maleditrice può fare pure schifo a confronto il Dio il vedere Venga a vedere Dominic C'è una maledizione comunque Maledizione? Sì Sei morto? Quella è tutta l'osso Quella è tutta l'osso Divincola ti... C'è... sei giusto, io Grazie amico Dom, Sir Bomber ti chiede ma è vero che Dominic fg? No Hanno chiesto, non è una domanda Ma questo deve far correre dall'alleato Ma di nuovo? Sono morto Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Pensava fosse mio compagno Come a te chi lepre mio compagno Ti deve fare curare comunque Dominic Ma no, sono morto Ah no, sono morto Ritro sciogliente Vediamo quanti punti è Ah, quant'altro punti è Sì, così sangue soprattutto Sì, 7000 Eh, chi è il capo? Tu o io? Ok, allora io ho fatto 6900 giorni Vai aggiorna Dominic Tu dovresti essere il capo, sbaglio Aggiorna io Ora ne ha 7000 Come ho tippato Forse ero io tu, non mi ricordo Dominic, ne mancano pochissimi La porta ancora di un livello in su Vabbè dai, giocamocela con il mio personaggio Dominic, per me ne sbatta la missione Lo faccio a limite da solo Ma io che ho missione io? No, 159 su 180 soldi Dominic, la vabbè Sono 3.873 Vai Dominic, ci metto io Mi metto un attimo gli oggetti Arriviamo qua con la E l'offerta Buono E l'offerta E l'offerta E l'offerta Ho shoppato solo Michael Myers e il migliere di Saw Ma sei da PC o da PC o da PC Hai detto Saw? Eh, ha detto Lui ha shoppato il migliere di Saw e Michael Myers Eh Jack Si Saw, c'è un personaggio di Saw e anche di... Perché non lo sapevi Dominic? Com'è c'è un personaggio di Gesù che ha detto online? Ma no! Saw! No! Solve! Ah, io non mi chiuso Non so... Ti sape che mi piace con quello? No, non c'è Ma lo shoppavo subito E' di PS4 E' di PS4 Peccato Questa mafia Ti saluta tua azia pelata col cerchietto Ti dice ciao maestro Ciao Andiamo Va bene Io ho mettato la portola a tutti quanti A sacchetto di sale Ma Dominicraft ha la fidanzata che si chiama Sabrina? O sono solo fandomie? Ah io non ho nessuna fidanzata Uh, io non lo so E poi che via hanno contato queste cose? Dopo facciamo, dopo, dopo, dopo il killer tu Chi va? Ma che bello Da quanto giochi? Io, io... Da quanto giochi? Ieri sera Ma però cavolo Non stiamo andando così male alla routine Cioè i skills cercanzi li sappiamo già fare Se io vedo streamer Dominicraft Che giocano tipo da quanto? Un mese, due mesi E ancora non sanno fare gli skills cercanzi Noi sbagliamo uno o due massimo Avete con lo spettro? Ma cosa non lo sapete? Abbiamo il campanello Dominicraft Quindi stai attento Perché forse la descrizione Anzi è pure una descrizione Che come affrontare lo spettro, spero Sì, mi sembra che è apparso prima Eh, ecco quello è allora il killer Quindi arriviamo contro lo spettro Si ca... È invisibile lo spettro Quindi... Ah, quello di... Sì, quindi... E visto che avete contro lo spettro quello che può diventare invisibile Infatti ha detto... Gercar ha ragione Infatti quello che ha detto quello Quindi mi raccomando Se vedete un'ombra strana che si muove Eeeh... Indispettita È il killer Se vedete un... Una cosa strana Bello, ma tu come... Bella sta mappa Ma l'ho vista Una mappa nuova almeno No, non è nuova Si, a me non mi è mai capitata A me sempre le mappe dei... Dei grani Mi aspetta Quella in cui ho giocato prima Ti ricordi? Si, ok, ma a me non è nuova Quella in cui l'ho perso Perché qui si è trovato la bottola Non è la stessa? Si, ma sta mappa è buona per scappare Però il generatore non... Eh, dove stavo visto il generatore infatti? Ah, è vero Io so dove sono il generatore In questa mappa C'è il killer da me Che gioco da novembre Da novembre? Fini Un... Un anno fa Allora prima la bottola era vicino a questa... Quasi un anno, quasi un anno Eeeh... Comunque ragazzi C'è qualcuno Magari come si chiama Che ci può... Che ci dia consigli Su Dominica e for me Eeeh... Non ho ben accettato Su Dominica E non so Ancora veramente non mi riuscivo a trovare la formula Non so per dire Così su me stesso Ripara ripara che fa bene E' qua stato preso Io non trovo pure Non sto trovando ancora i generatori Io ne ho trovato uno Lo sto riparando O potrebbero metterne di più di generatori C'è ce ne sono veramente pochi C'è ce ne sono veramente pochi Oh che giusto per me 8 o 7 No ma non ce n'è qua E' qua Devo uscire per forza Quello sta facendo uno Uno si Sono a metà Ah c'è quello morto Quello davanti a me che è ferito Nooo L'ha tratturato C'è E' fu... C'è Ce ne andiamo conto E' passato uno Dei nemici Dei nostri alleati Vicino E' questo qui Non l'hai seguito Ha visto meglio Ho capito Ma è giusto Ma è giusto Vabbè E' fin No Domini Ma per domini Sei sulla schiena Sei dal barretto Grazie Capite Un film Scurami E' questo E' questo E' io l'ho appena visto E' un invisibile Dicono quando senti battere Devi scappare Sì Il bagasino No Eh Ho sentito battere E andiamo a qui Stavo scappando Com'è fatto a essere così veloci e svegliato? Il genetore li vedi perché non luce sopra? Sì ho notato Questa cosa non l'ho vedendo Ma anche tu hai il brutto aspetto Non so la camera non mi piace il vostro aspetto Ecco Ecco Stiamo sbagliando tutti Sì ma mi sono qui in barretto Com'è fatto? No Arrivo arrivo Però Domino ti farei Non ti farei in burro Eh tu lo fai facile No io ancora mi sono fatto perdere Eh perché tu stai in culo E' vero Cosa prende sempre me quindi Adesso se ne frega Fai il tunneling sto qua Non so che cosa sia il tunneling Però vabbè Poi il mio braccio ci sta anche a fare space eh Mi sta accanto Grazie Scappe Dom Occultati Occultati No Mi hanno perduto il tuo uomo No Ma no No Ma no Ma no No Questa mafia Eh accuto Vabbè Prima sono morto io Ma sei morato Sei morto sul tuo uomo Non è tutto come il mio oculto Sì E io se non mi posso occultare Perché tu no E io non posso Poi tu sei l'opera E ti ho conoscato tu al posto mio visto che io non posso leggere Eh esatto sono Cioè chi era davanti a me eh Non posso muovere Fai il tunnel in sto qua A domenicraft piace A quella una non so Cicciotto ma è una cosa Una specie di cuscini prima di tutto Ma perché non mi togli Sono cose per la skin Eh no sono lì Ma cos'è il tunneling Come spiegateci Ah ecco l'ho spiegato Jack Jack è il dio di DVD Ascoltalo Leggi Poi il tunnel Quando dopo che Uncina una Quando viene liberato insieme solo E solamente lui e degli altri Non gliene frega niente Perché non ti uccide Quindi per esempio Il tunneling era una cosa che ti bacia tanto su uno E basta Che merda Sì ma io che devo fare Non so trovati i generatori in sta partita Sono occultati Ah eccone uno Io posso leggere l'aggetto perché non posso sbagliare Sennò sbaglio i generatori Sì sì Tu riddu e torto c'è scritto Non è morto Sono morti tutti da Amagesto Ma che vabbè si vede che si vede Allo spettatore domenica fa ragione Vabbè ormai No noi ci siamo tutti ancora che ci vede Allora ormai non posso fare Uno uccinato e una a terra Rimango soltanto io Ok adesso ho sbloccato una nuova tela Ma che livello sono? Ah che ti è uscito? Ma fai schifo Eh perché quando la lettera è troppo tardi Sono tutte le due sulla schiena Rimango soltanto io sono fin di generatore Ma adesso buonasera Ma adesso Beh buonasera Sono le 2.27 Vabbè sì Ma adesso l'amo Gas Non ce la faccio a salvare Inizia tanto quello Ma a me che sto faccio Uff 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 Ma come ha fatto Che culo c'ha Ovviamente Senti che fortuna c'hanno Eh c'è un per cento Eh sono morto Cioè con un per cento sono riuscito a salvarsi Vabbè fortuna sfarciata Eh sono morto Vabbè dai Ha vinto Sei morto Uff 4% Ah c'è il 4% Vabbè non Capirai Che c'è proprio tanto Vabbè dall'1 al 4% C'è il 3% di differenza Niente Che bravo sono Mi ammazzo da mini greff Forse No mi ammazzo Non può venire mai Sento la fuga Tanto non funziona Ma come è morto a liberarsi Quello Niente Quello di come è fatto A liberarsi Sono morto Ho fatto apposta Però ho giocato come tutti quanti Dai Avrò fatto più punti almeno Sono morto domenica Eh mi dispiace Vediamo cosa Quanto Quanto ho fatto Io però le persone Fanno veramente cagare Io faccio schifo pure Però ci sono proprio quelli Che non sanno fare il minimo Oggetti persi Livello 10 Vai Di cosa livello 10 E a questo Tutti quanti Perché viola Come fai Non capisco Non capisco Non è altra persona A perdere Ah Puigliaperti Che ti mette A proprietà Fino al 34 2000 Vai Dominico Invitami Hai mai mangiato Una giraffa striata Cosa Una giraffa Striata No Jack Tu che usi Vabbè Se dai PS4 Comunque su PS4 Lo regalano in gioco Tutte cose Regalano Tutti Killer Ma Boh Eh lo so Purtroppo E' una cosa Buuta Però Ragazzi Con il classismo TPC PS4 Io uso Dwight Dwight Chi sarebbe Ah il leader Si Con lo che aumenta La percentuale a tutti Tipo Delle cose Facciamo Il legame No io uso Mi sono trovato bene Con un pochetto Ma perché Ce la conoscevo Il fatto che Tipo curare solo E' troppo Precavolo Io Ma comunque Ormai Ho questo Come potente Guarda Tutti quanti Crudetto Sono Eh Aspetta Occupaggiamento Offerta Dwight is love Dwight is life Addirittura Dice Una scritta Tua madre Come sta Bene Saluta Lorenzo Ciao Lorenzo Vediamo chi è il killer Che ti dice Dominicref Leggi la descrizione Che ti appare Così vediamo subito Quando è ferito Un sopravvistuto Per il suo guarito Un altro sopravvistuto Ah pure a me Mi dice questo Ma dai Non lo sapevo Mi raccomando Dominicref Occhio alla penna Saluta Lorenzo E l'ecco Adesso che parla Il kit medico È l'infermiera Nooo Lo direbbe Sopravvistuto Dove essere Qua sopravvistuto Le propezioni Le propezioni Corri da Ce l'ora Lascia le salire Fattoria Ok No ma Sì infatti Fa bene Così sblocchi tutti quanti Ma quanto ci vuole Per portare un eroe A sbloccare la cura Tutti quanti 40 Minutare 45 Eh Io toco i totem Nel caso Sì di nuovo la strega Showgamer È razzista Ma c'è? Ah ha scritto Showgamer È razzista Ma se adesso Non ho detto niente Di razzista Oh non lo so Ho parlato La fattoria Con la città Di razzista La fattoria Perché la cacciatrice Non è gratuita Perché non è gratuito La cacciatrice Ah livello 30 Deva terra Ah livello 30 Ora No sei morto Dai domini Grazie Dai No ho variato No ho skillic Ecco Ha un nome strogo Strano Ma per nana Skill Skill Ma che ci vuole? Oh skill La parla skill C'è Ah anche Il mio compagno Ha fallito Ce l'ho io il killer Il mandriano Quello che Ah ma potete Sì esatto No forse no Ma non lo so Non lo so Nesta mente Ma ce ne non è Dato usa Infatti sono due Forse cacciatore Non lo so Sono guari Per me Saluta mi batti a beani Saluta mi batti a beani Ok Un altro Cosa hanno fatto Io sto facendo Per uno Io facendo pure uno Io faccio qualcosa di cooperativo Raga siete felici che scioghen mi ha portato grazie a me del vedere No dai motoseghino Seghino dai non ti fai le sfighini Ah là c'è un generatore già attivo Io lo sto facendo uno Sì esatto Sì esatto A me non funziona A dire Come devo cercare A dire Ancora a me non funziona È tutto bugato È di Prodito So perché Ah ha preso una trappola Ha preso una trappola Una trappola avvicinata Ah è trapper Ok Motosega trapper Per una motosega Non so Guarda questa È quel killer Via 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 È quel killer Ma che gioco è È orribile Non è orribile Day by daylight Ha preso l'altra Ha preso l'altra Non è orribile Con gioco che sta diventando spopolato Con gli amici Con gli amici è divertente È da solo orribile Oh oh Le zanne stanno apparendo Sta arrivando da minicraft Se devi arrivarmi Arrivami da destra Non da sinistra Sta arrivando Non sei tu Ma se devi apparire È bello questo gioco Sì Fatto Però non devi rompere lo spazio Dov'è? Eh se no no Non lascia Non l'ho salvato Ma no ma dillo che veniva qualcuno Dov'è finire? Devi sapere pure a me Stai venendo il killer da voi comunque Questa informazione Ma non sento che mi hai salvato Comunque manca uno Da Finseva mai il killer Ci manca un coso solo Però l'ho stunnato Non è dubbio Dai dai Quelle calcagne Però l'ho stunnato L'importante è quello Nella vita Allora è l'ultimo generatore Ce ne manca uno Ci manca un generatore E poi possiamo fuggire Verso la libertà Eccolo forse Trappola ma Mi hai preso la trappola Da minicamp Io Non serve a niente Ti svincola Sì Ti liberi Perché come hai fatto A prendere la trappola D'ombre si vedono le trappole Guarda la buca Ah Che culo Che culo Eh è arrivato il mio amico Ma adesso nasconditi nell'armadietto Non funziona Niente Eh dovevi nasconderti prima Non penso che ti vedevano Ora te Se l'ho caduto Non ti preoccupare È da te Non ho capito Sì Sei morto Come? Come morto? Ah perché sei arrivato ai divini Giusto Più Ti già eri arrivato alle cose Giustamente Se ti abbassi troppo È normale che muori Questa cosa la ho chiuso La tua vita Se si abbassa troppo È normale che perdi Ah beh Se hai le zanni Oh non quittare Fammi vedere al spettatore Ma come faccio potenzialmente Se non quinto E li fai dopo? Domini Crep non devi per forza farlo Stai guardando 122 Sono Quanto Per 2 Beh a me non posso ritirare il mio premio Minga questo è difficile Ho 31.000 sono Ho 31.000 sangue Ah ma hai fatto che ho 31.000 punti Non ci stavo credo mai Ho preso la trappola Non ci credo Anche tu? Sì ma io Che è così stronzo Che la trappola Fai dove la mette? No ma no Vuoi vedere che arriva adesso? Perché io appena mi sono liberato Il generatore Quello lì Quello che non ha Saluta Alex de Zan Ciao Alex de Zan No Alex de Zan Oh no con le last blazer Ma adesso fai il video come giocare Eh Beh ci sta Non è facile Spiegalo Beh a metà Come sarei che lo spieghi io Se c'è tutto Non che dovete fare l'ultima generatore Eh grazie Sei un genio Fattelo dire Grazie Grazie Se non sapete dove andare Mettetevi nell'armadietto Oh è lì Me ne devo andare Lì è molto simpatico Cos'è sto rumore? Mi pare dei rumori strani Tipo mitragliatrice Trappolosa Non lo so Oh l'ultimo ci manca Oh ma che sta facendo Ecco la trappola Ma so dire Questa è veramente La mitragliatrice Sì infatti Ma questo è un coso C'è in continuo L'ultimo manca L'ultimo era Dove c'era la trappola Oh ma che sta facendo l'altro? Ti prego Ti aspetto nell'uscita Dominica Perché non è quello Sta facendo il coso Ma sai che l'ultimo Lo sapevo io Lo sapevo io Ecco il killer Dominica Ma che si mette l'altra l'uscita? Eh lo sapevo io Perché tu ti sei messo in un momento Ma perché? No 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 Mi abbia sbagliato io Ti sei messo in un momento Sì ma questo 3D comunque non funziona Niente Sono morto Eh bro ci sto L'ho capito dopo Ma pensavo che se ne andate il killer Ma non c'è Ma si è rifiuto la trappola Guarda dove la piazza è lì Non so Posso servire a capire se qualcuno va su una trappola o sarà disattiva Ah ok va bene Dai mi dovete salvare però a me Salva mi sono No se ne sto scendo Sicuro Sono uscito Ti voleva salvare o andate a me No se ne va sicuro E di vincolo ma tanto peccato Oh me la so giocata però benissimo questa partita Niente sono morto Guarda lì cosa fa? Ma che ne so? Guarda quando fa lo spettatore da qua Ah sta prendo la via di fuga Eh anzi me la so giocata benissimo questa partita Eh fuggito Eh vabbè va che inizia Prax fa schifo Ma tu fai schifo Coccini Ma che vuoi Fuggito Sì Io l'ho già sentita a qualche parte Eh ci ho provato Coccini l'ho già sentita ma non mi ricordo Su cosa Ma non mi dà manco i punti Vabbè Ho fatto schifo questa partita proprio Niente ci ho provato Ah però no mi finisco la tele Vado a livello 15 Aia C'è noia oh è pazzesco Livello 15 Ho trovato Ho 4 slot adesso domenica Tutti e 4 Tutti e 4 Eh Ma mi guarda le cose io Vabbè Ancora posso mettere solo due Quindi al momento non mi interessa Ma che cucina nella mia live Ma che adesso Ma che adesso Ma sì lo so che è un loro amico Ma forse perché giocava i Gigi Cibo Ma come hai fatto a capire che era livello Scusa Non ho capito Stavo nel gruppo di Eh ma se sono con Diego Scrisse Ma per questo mi hai sentito Non ho capito Come fa a sapere Ah sì Nel gruppo in generale Però non era più Allora comunque Prendi quello Erde Ti parlano con te domenica Non so di cosa parlano però Invitami Ah forse di potenzialmente E prossima volta Se arriva a 5000 Ma adesso ho un'missione un po' difficile Sfuggi su Bambini Per una volta Con Claudio Aspettito un attimo domenica Devo chiedere una cosa a Jack Jack ma è meglio conoscenze botaniche O è meglio premonizione Premonizione Per Crudet Visto che ho sbottato il quarto slot A posto vai parli Adesso Ho due missioni Una è quella con Il cacciatore Quindi Con il killer Non ce la faccio Fuggi e sopravvivi Per una volta E con Claudio Occhi a posto Quello verde Guardami Mi riesco a sprint Forse Comunque non pino Li pio gli oggetti Li spreco soltanto Visto che non riusciamo a capire Vai in vita Allora devo uscire Così mi sblocco a livello 30 Come si chiama Mi faccio le cladette a livello 30 Pian piano Ma la domanda Ma come si sblocca il desice? Aspetta Jack Aspetta Il desice Come si fa? Come si sblocca? Qualcuno lo sa il desice? Quella cosa che ti puoi scappare Quando sei sulla schiena Del killer Perché puoi scappare Non devi divincolarti Se fai lo ski È spunto per uno E praticamente vuoi sapere Cosa fa Dominic Sei sulla schiena Del tizio Soltanto una volta Però puoi fare E basta Poi se mi devi divinire Osino o perdi Rivellare la sorella Di Michael Myers Ah Vabbè allora è impossibile Non la posso avere mai Eh quella Se si scioppa Io devo usare questa Perché lo scappare La missione Fuggi sopra Una volta Con Claudiette Morelle Niente Si riesce a fare una cosa Per quella Schi peccato Che palle E io pure Vediamo poi Ma si scioppa Si deve scioppa Comunque dopo Se vuoi fare il killer Dopo Non lo so Ho il cassone Ho il cassone Come quei salcicciotti A fianco a me Ma togli Si sono i salcicciotti Ah no posso Sono i miei Memoria dei Ma non è che la posso togliere Sono cose di camera mia Ma perché come si guadagnano Ste gen A gem E rosse In teoria Sono Ma perché Schiap Ma i Michael Myers Sanno Non devi soltanto Pagare per forza 5 euro Per averli Cioè io so così Non so se si possono Scioppare tramite Quei gettoni Che ci sono Ah mi può capitare Quindi al negozio Al costo E la gem Che i guadagni Livellando No quindi lo posso avere Michael Myers Non devo per forza pagare Se sei il culo Che appare Ah dopo vado per il suo negozio Ma in teoria devi averne tanti Di quel momento Io ma te ne amo Ah ma forse ti diamo lo skill check No il Michael Myers Vabbè No aspetta A partita non voglio leggere la chat Mi concentro meglio Perché è un casino Leggere la chat E stare attento E beh Quindi sta partita Aspetta Sta partita Non leggo l'attimo la chat Perché per me È impossibile Fare generatore Dez Guardare un occhio a killer Cioè ti chiede Che fa il DQD Come fanno Ma i tuoi come fanno Non lo sai Infatti leggo dopo Cioè o leggo in un momento morto Però è veramente Difficile Perché gli girano gli occhi Ma infatti Zebo non li legge I commenti mai Quando gioca Mai Solo quando forse È stato preso Ah siamo contro Il dottore Non so chi sia Contro chi sia Ma poi Loro youtuber Non hanno un problema Ma che hanno due schermi Di solito Sai che hanno due schermi Di youtuber famosi Ah beh Questa è quella Io sto riparando Il colmo Ti auguro Ma cavolo È un piccolo Veloce La question Il campanaro Porco La campana ha finito Ah il campanaro Ok va bene Allora È il campanaro È la finita la campana Quindi Perché sia campanaro Eh sì Ovvio È troppo lento Ma è possibile La campanaro Fuggi Ah no Non è il campanaro Ha un martelletto Questo Prima ha giocato Abbiamo dato freddy Noi pure abbiamo dato Freddy Quello dei sogni Ma è possibile Fuggi I sobranvili Eh Se ce l'ho dietro È troppo lento Questo personale L'entrare a fuga Non ci trovo niente No no Niente C'è il 4% Io se leggo la giota Non riesco a giocare bene Ed è brutto non leggerlo È più forte di me Non legge Eccolo Ma mi appresta a me È scomparso Come sai se quello è Eccolo Coragioso Allora c'hai tu No ma io non lo so Come fa a leggere i commenti Infatti il ragazzo ha detto Come fa a leggere i commenti Chi gioca a DVD Perché gli occhi che vedi Che è sfasa C'è anche guardi là Che non ci capisci più niente È possibile fare fuggi qua? Cavolo di borbi Peccaccio È impossibile È impossibile fare questa missione Va troppo lento Questo personaggio Prodetta È vabbè normale Ma è impossibile fare fuggi Guarda ti divincolati È impossibile Tom resisti Ecco ci hai rimesso in bisogno No Ha perso il cotto del cazzo Devi fare cresci Sessanta Dicono Qual è la terza esame? Muovendo la testa Poi perché sono andato a livello invisibile? Dicono Quando esplode i generatori Tutti che ti puoi vedere bene Devi scappare Di fatti Ah no Di nuovo Subito l'ho trovato Era lì Allora Che aspettate che mi liberassero Era proprio lì Li hanno liberati Sono andato a livello Sì ma Era proprio lì Era aspettandolo Sì A livello A livello A livello A livello A livello Usa Nick Thomas Eh ma questo devo farlo per la missione È impossibile ho scoperto quella missione Ah soprattutto quando potrò cambiare Cioè domani Io tolgo Quella dell'infermiera Cosa? Cioè la missione dell'infermiera Ah ok A me segna che chi l'era è vicino a me Ma io non lo vedo Ma che cosa è per munizione ragazzi Me lo spiegate Che mi si sta girando tutto rosso Ma è solo che lei muore solo in questo gioco Non credo che sia questo Sia questo che Se lo scopo Se il bombe A me sembra una vita Caro se il bombe Mi dispiace Basta Va bene Davide Ma se incontriamo persone troppo forti Però poi Non ha senso Ma a meno Ho capito Però è andato a me Non mi diceva niente Non mi faceva dare un'aura Dov'è il tizio? Mi è lontanissimo Ma come faccio a prenderlo io? Io lo trovo il generatore Comunque grazie Tony Kutu per la risposta Vabbè lo salvò io Vabbè lo salvò io la Ah il basement L'ha portato Ma stava camperando Ma stava camperando Sì aspetta Com'è a me Com'è successo a me Mi hanno interpolato Si è messo invisibile Mi hanno liberato Sono andato più avanti E' apparso Mi ha ucciso Se la campero Sì aspetta Se la campero Come può aiutarlo Aiuto Sti rank 20 E devo scappare Per forza Quello ormai È morto Da botola Devo trovare Non è Comunque Io che gioca tanto Posso aver consiglio I bancari Quando ho iniziato il tira Siamo stati riusciti Di prevedere Ma cosa è stato attacco A 360 gradi Però non lo so Vediamolo da Cioè come Dobbiamo girare Non l'ho capito E' difficile Quello che ti Devo trovare La botola Ma non lo puoi Trovarla ancora Ho si liberato Quindi come fanno Ste persone a liberarsi Io ancora devo capirlo No Non è che non posso Trovarlo Posso trovarlo Ma Non è già Quando rimane solo Uno vivo La botola Non è quando Rimane uno solo Ragazzi Mi dobbiamo inviare a me Di dombo Che scrive il mio nome Nel dubbio Che è meglio Eh Raxxxy Inviamo la mano Per la richiesta No Comunque è possibile Domino Lo scattolo La botola Non la troverò mai La botola Nome del mio amico No La porta nel basement Ah no Non è buono qua Sì ma se il camper Fai schifo però Sì vabbè Che devo fare raga Io ci vado Non riesco a trovare la botola Che devo fare Dominico Tu al posto subito Che faresti Ma mi sai già La botola La prima di tutto Ci vado Tanto Se devo perdere Perdo Io mi ricordo La botola La botola La settimana Quando Le mani Appone Tu cos'è Mi chiamano Fini di puttana Bodyblock Bodyblock No Bodyblock Ci muoio io Non è Non è Vai Io scappo Ciao ciao C'è quello di PS4 No su Steam C'è su Steam Su PC Dai di nuovo Ci hai fatto prendere Dove è la botola La botolina La minicas Mi dicami Ma questo è il basement Non ci andrò mai al basement Come faccio a trovare la botola Quello pesca Non posso andarci Posso anche lasciarlo lì Purtroppo Non Se quello lì Fa l'infame Ah ok Cos'è il 360 Quindi cosa devi fare Quindi avanti E poi vado subito indietro Vabbè Ma mi devo abbassare Perché sto facendo il 360 Ok Mi è giunto Climp No ma è Come trovo Cioè come faccio a trovare Stamappello Del coso Vabbè Allora come fai Non ci può Meta La botola Ma che ne so Il toglier si è appena attivata Eh grazie Se ci sta pure Fai scamperando il killer Però fai veramente schifo Ti mangiare Il killer si trova la botola Eh la cosa più brutta è quella Io l'unica maniera per vincere È trovare la botola O trovo O faccio un generatore Ma in facendo il generatore è peggio Perché poi lui si metterebbe davanti la cosa Guarda la botola Che sta in questa mappa Eh ci ho pure dietro Sì vabbè Oh ma la Sì ma la Vedi Che mi fermo Mi è andata pure a scattare Mi va a scattare Guarda Sono morto Niente Che sgobare Che sgobare Che sgobare Ma senza Mi è andata vicino Ma avrò fatto più punti dai Posso sentare la puta no Vero No infatti Ne devo fare Che naggo Oh ma Che cosa ci posso fare io raga Che naggo Colpa mia Trovare sta mappa La botola Non è facile Volare Un minimo di luce Manco c'è Che nabbi Ci cerchiamo Manco una settimana In Italia non è molto Ci vuole Quanti punti ho fatto Oh intanto Oh intanto ho fatto Il punto rango Cioè come si chiama Guarda che dicono Che tu l'hai trovata la botola Uno ha scritto Penso che il tuo amico Abbia dei ritardi mentali Hai trovato la botola Non è vero Ma non è vero Io tu non l'hai perduto Dominicraft Non l'ho neanche visto Io non l'ho visto Io manco In prete alla corsa Non ce l'ho Non faccio Possibile E infatti Ma io e Dominicraft Dominic ci gioca Ieri sera Io ci gioco Da macchina settimana Datemi il tempo Eh mica uno imparato Velocemente a giocare Poi un gioco complicato Aspetta che invitiamo Sti ragazzi Che vogliono giocare con noi Anche questo gioco È complicato Ah dunque Tim So Clicchiamo Sì Hai tirato il pallet Mentre hai davanti alla botola Vabbè Ho sbagliato A usare I punti Ho sbagliato Il personaggio Ho usato Il sangue Il personaggio Sbagliato Vabbè Scusa Ah scusatemi raga Non Colpa mia Che non l'ho vista Accetta Accetta Vai Comunque non è vero Dominic Graff Invitami Vediamo Questi che Va in vita Vabbè Non lo faccio io No io devo farlo Non me lo invita Io poi No infatti L'ho fatto io Ho fatto io Vediamo questi ragazzi Che dicono Che sono forti Vai Minchia Livello 30 Livello 33 Grazie ragazzi Ho rank 20 Il tizio qua E questo è rank 13 Dai mi inventi Ti ho invitato Sì sì Sto entrando Entra Come vedi Vai E beh Secondi che Cioè Un pomeriggio Vediamo Se sarà Il matchmaking Equilibrato o meno Se ne è cavolato Vero Io non posso Vedere i perk Che c'ha Vero Questo Questo Non è rank 13 Agli spettatori Con iscriviti Io ho sempre avuto pochi iscritti Anche 50.000 iscritti In live In live Con la dici C'è la youtuber Che hanno sempre Un milione Ci hanno solo Boh Allora Ci vediamo 10.000 10.000 Sì Gente Un milione Che hanno 10.000 Di Follower In live Gamalini Creffa Piamo Dwight Per la cosa positiva Perché La gente Magari C'è La gente Guarda La gente Solo per i video Non per le live Raga Se volete Tenete la live Aperta Che state guardando Almeno scrivete Quello che dobbiamo fare Per chi sta giocando Guardi la live No Ma vediamo subito Se è vera Sta cosa Te lo dico Io non sono tutti Questi Questi Qua Hai tirato Il pallet L'ho visto L'ho sentito Bro Dico Questa È ancora strana La gente Che deve Sempre insultare C'è 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 Mi riscritti E poi A questo gioco Che non tanta gente Mi guarda Perché con altri Giochi mi guardano Di più Per esempio E beh Com'è Domenico Questa è la prima Live Di questo gioco Vediamo come va Però il fatto Che dovevi insultare C'è Facile insultare C'è tanta gente Che non lo conosce Neanche come gioco È facile insultare Però chi gioca Da poco Io Allora Come si chiama Ognuno Potrebbe Mantarsi Di un gioco Che magari Tu non giochi Cioè Se la vuoi mettere così Non l'ho vista La botola Sono cieco Chi è Ma che colpa Ne ho io E poi Tutto oscuro E poi la mappa Non la conosco Non per cose Le mappe Non le conosco Io se avevo Tanto DVD Non mi va Da ricordare Le mappe Le cose E poi È tutto buio Come fai A parte che I generatori La botola Sono tutti quanti In posti diversi Questa è la mia mappa Che ho visto In DVD Questa forse È più o meno Ma cosa non posso ricordare A parte che sono Poi ci sono mappi uguali Quasi ci sono mappi uguali Sì Mi diventa Un po' più Sì Sì Faccio La strega Cooperativa 3 No La strega Vado No Come la strega No Io non la fino Ce la sono Capati Quello Mi ho perso Ma infatti La maledizione No Ma che Come ti vincito Ma che Sono vincito a capire Cosa rossa Pure io A cazzo Ma qua si è molto lei Che stiamo facendo Io sono tovolo Yeah Che poi il moderatore Fa anche luce Vabbè fai un generatore Ne mancano solo Due guardie Solo Qua si travola Un'ho preso Io ho paura Ti ho preso Di fila Do mini crap Che cuno Non è Sarà un altro Giratore Guarda qua C'è il killer Ma non è la strega C'è Ma come Ah perché Come non è la strega La maledizione Non è la strega Non è la strega Perché Perché Te l'ho detto Siamo in un rank basso Ma è un problema con la trappa E il trapper Con l'abilità della strega Te l'ho detto Do mini crap Tu questo gioco Può avere tutte cose Se sei a livello alto Ma con tutti personaggi Siamo con un rank Trevisore Rank 10 E beh Rank 20 Io sto buggerendo il totem Forse tolgo la maledizione Dove sei tu mini crap Eh il totem toglie la maledizione Ti venga a salvare Sa che? No Perché è sbagliato Non mi ha capito il killer Ma è stata la trappola No Mi stanno chiamando Sul discord Aspetta Ma chi è che ti ha chiamato Sul discord? Che siamo Guardati Che ti chiamano Sul discord Eh No Sta morendo Sta camperando Il killer Uh Mi spara Via come a mani nude Fanno Via Hai visto do mini crap Non era la strega Ma è il trapper È il trapper È la strega È la cosa bella Che sono rank bassi A me non me lo dà più il cos'è l'oppo Perché ho pulito Ho fatto il totem No dammi dire Eh perché c'è il totem Poi è tutto qua Si confonde Si sta confondendo tutto qua Vabbè io continuo Però quando arriva Che è killer tra yard Che è killer tra yard Non so Non so Non so Non so Sto confondendo troppo Eh Però hai visto Hai visto Domenico il match Mi chiamato Nella strega Però è un trapper Cioè hai visto Già quello Sarà livello 30 con la strega Per avere il suo Il suo Il suo Infatti mi sta domandando Cos'è che c'è la luce rossa È il nemico A me basta che non mi appendi In una trappola vicino Al generatore No Domenico Non a te Oh qua vicino c'è la cassa Le hai tolti i totem Io ho vinto un totem Sto resistendo Vai Dominic Combatti E' da me il killer Ma non ci sono pallet In giro Ok bravo Bravo che si è passata La fitta pazza No sono a terra Ma io come metto I patti Anche io la fanno a terra Ragazzi Mi hai fatto far male No Anzi ti ho salvato Da mini grep Sulla schienaccia sei No ti ha lasciato Ci ha lasciato Il momento mori Non ci credi Te l'avevo detto Crep Io te l'avevo detto Che c'era Che c'era Potevano avere il momento mori Capori tua Tu hai voluto giocare Io te l'ho detto Questo è il momento mori Cosa che noi Al rank 20 non dovremmo vedere Invece lo vediamo E hai capito perché? Ah io non ho capito perché mi ha Ah volevo proprio provarlo su di me poi Non ho capito perché su di me No il momento mori ce l'hanno tu Ce la puoi fare anche tu È una skill Non è un'abilità Cioè è un'abilità Capito? Anzi tu non mi poteva portarmi Ancora da appendere Ha preferito usare il momento mori Io per questo non giochiamo con questi Chiavi che si trattiamo con culo Con il momento mori Ecco questo è il momento mori E noi Ancora dovremmo essere Dovemmo essere troppo presto Ne per il momento mori Invece Nada Sì però non riesco Pure a me No pure a me Domini Crep A favore Due momenti mori Ma che bene No domi Io non gioco però così Non c'ho Prio Stati sei morto Non devi più giocare No Non c'è Prio Cos'è Perché sei felice tu Che vi hai perso per il momento mori Sì E poi devi ancora vivo Vabbè 10.000 punti almeno ho fatto Una merda Vediamo gli altri Sì però dopo facciamo la selfie Prego Ok Troppo forte sto killer Ancora un coso da sbloccare Per andare a livello 9 Le persone Vado Dominicraft invitami Ho sblocato delle cose nuove Invitami Dominicraft non sta accadendo per davvero Ho sblocato Ancora due livelli Per sbloccare il terzo Quanto siamo in live? Boh Ah uno alle 16 Vado Dominicraft Forse Io già che te l'avevo detto Che incontrò quelli più forti Non mi credevo Adesso mi credi O non mi credi Che se giociamo quelli con i rank bassi Incontriamo quelli che hanno il momento mori Eh Ti dico la verità Il momento mori Lo possono avere tutti Di killer Non soltanto uno Tutti Eh i killer? No non so bene Eh beh i killer Sì Vai Dominicraft Aspetta Facciamo l'ultimo E stacchiamo Sì Ma forse si può avere anche in quattro Però non penso quattro C'è quattro momento mori Scherzando Posso capirne averne uno Ma due Vabbè Poi siamo scarsi noi Non quelli che sono sbroccati Vai Dominicraft Sì 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 Ah, abbiamo trovato, ok, vai Ok Ehm Death by Daylight La morte non è una via di fuga Mi raccomando, lo minicraft Dicono comunque di fare il 360 Avanti e poi per indietro Capisci? Ehm, ma così muori facilmente Eh, lo so, ma è rischioso Infatti ti dovresti vedere Zeb o qualche altro youtuber Non per cosa, ma tanto Zeb fa A livello competitivo in Italia Non è per cosa, però O soltanto vedi Atrix, poi non ne conosco altri Italiani, americani ce ne sono tanti Ma non mi seguo, non ci capire niente Ma è meglio, infatti Ma io seguire uno che odi Ma almeno capisci il gioco bene E seguire un altro che non capisci Ma come si fa un attimo Però te l'avevo detto E mi ha incontrato il trapper con l'abilità della strega O proprio l'ho detto io Incontriamo quelli più forti se giochiamo un po' Qualcuno di un passo del rank Cioè per farti capire No, noi potremmo incontrare uno Che abbia il potere del Dell'infermiere O niente non esiste sto patto Un esempio stupido che sto facendo Non c'è sto patto Che potrebbe essere il Tipo, ah no Ad esempio Che può diventare invisibile La cacciatrice Esempio stupido Non esiste sto patto Perché l'invisibilità C'è soltanto il campanaro Però vabbè Un po' non lo so Non lo so Però pensi Sarebbe troppo schifo E troppo Che è fatto Mi raccomando Dominic Chi è il killer? Dimmelo tu Il maiale Ahia il maiale Maia Perché c'è la mappa di Sov Non hai visto Sov L'enigmista Non è che è una mappa Non può essere Un po' brutta Un po' creepy Abbastanza Il suo piaggio è sopra e sotto Dominic Quindi senti il battito Può essere pure che è sopra Ragazzo Non è per detto Che ti pregla Non mi piace questa mappa È il trapper Non mi piace questa mappa È il trapper E poi anche la musica adesso Che la fai E dove stavo che ci siano Io? No Ma che ci sono i maiali scogliati qua? Ma è caduto nella nostra Trappola È caduto nella nostra Eh però Sì ma che noia però Sto trapper Ma sì È tutto nella casa Aiutami Dominic Salvami Sotto sotto Scendi sotto Qua so Ci sono delle scale Oh di tu di te Dominic Ci sono delle scale Do do di tu di te E vai avanti Dietro hai detto Andrò capire Per scendere di sotto Dominic Ci sono delle cose Se ci vuole capire no C'è un buco In una stanza Ok bravo bravo Vi devi salvare Veloce Veloce Dove vai? Dietro di te C'è l'ombra Eccomi Eccomi Occhio alla trampola Salvami Ma non è che te l'ho detto Puoi dire che sono un infame Dove ero? Adesso io Ma dove sono queste cose? No Paffanze Poi questa qui Dove fare proprio questi versi Ah Sei proprio qua Ciao amico Mi risparmi? No Non mettermi lì Per favore Per favore Allora Corriere è più stantissima Preparare Hello Arrivo Comunque c'è poco Giocare anche col controller Dov'è? Eh non so Non so neanche dov'è Dov'è il killer? Dimmi se fai scampare Eh Non ci sono andato Inoltre Cioè Dov'è? Ma non so se fai scampare Dov'è? Eccolo Grazie Grazie Domenica No Perché? Oh Sei cattiva allora Perché andate? Prendi guarda Non è normale Non è normale Non ho trappolo andato Te l'ho pure stonnato Con la sua stessa trappola Sì Veloce 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 No Vattene 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 Se c'è Non c'è Muoviti Da minigraf Sai Qua ci sono i suini Che non mi piacciono I suini che non ti piaccerebbe Vattene Salgo sul canale Esco fuori da questo posto Eccone uno Finalmente ne ho trovato uno Una che ha trovato una trappola E io sono caduto Ma guardate Se mi ha trovato una trappola Ho sbagliato il check kit Sì mi sta portato il killer questo Sono aperi Sono tutti e quattro feriti Ma perché Si è Sta Eh sono morti Non c'ho Ma dove si sale No Io non conosco E' stranissima Anche io Ci ho messo Poi Poi I rigeneratori Ti è vado andi tu hai già riparato c'ha un'ulteriore salita aiutami Dominic, curami e dove sei tu? sordo come sordo? io sto riparando quel cazzo adesso ho trovato la discesa vedo la tua un ombro ah ma è sordo allora basta che non entri con le stili questo sei tu o no? si aspetta se lo aspetta aspetta se ti fermo se ti fermo non mi salvare vai salvami salvami curami basta 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 come vai vado a finire il lavoro dove sono arrivato? nooo forse è meglio andare qua eh ce l'ho fatto vicio 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 scappa si aspetta comunque fa veramente schifo ma mi stai dicendo che dovrei salvare questo? no devi andare a trovare la botola ti sto dicendo ti faccio prima e dov'è la botola? no aiutami Dominic sono ancora vivo forse no sono morto sono morto e dov'è la botola? no buon idea mi metto qua dentro ciao questo è l'idea geniale per un minuto sto qua comunque stacchiamo dopo la partita ok un minuto per me è passato ok non è passato ehm quanti punti avrò fatto? control ah tu sei morto devo sperare che uccidano VBM io lo faccio massimo oh sono stato il secondo migliore penso show game ce l'ha l'altro killer che pensa all'altro killer eh? mi va bene questo è gestionabile si devi trovare la botola Dominicraft la botola è morta ma la botola non si può trovare ancora cercala come fate a cercarla se non la posso trovare se non muore lui? la botolina dimmi fai cucù il killer di utilità Dominicraft il killer di utilità eeeh in verità io volevo purificare lei a me c'è ancora a quello lì caduto nell'altra vabbè non mi serviranno mai qua vinco la tionetà si sa mai ti stupendo a salvare invece mi hai fai space 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 mvaca il coglione invece sei morto Dominicraft la Dx forse Speri, 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 Speri! Che fosse se è simpatico, ma è sotto! Allora è sotto! No, ora sale! No, la trappola ha preso! Ma orta... Domini... Niente, sei morto Dominica, hai visto la schiena! E Dominica è sulla schiena, Angela! C'è dolore, l'ho sentita! No, il momento mori li vuole usare! Gli stai sento il momento mori! Ma come il momento mori? No! Sto scherzando! Non è vero! Aspetta, aspetta! Sei divincolata! E' scappata! E' perchè adesso sono morto e... Ha trovato la botola! Anzi, ce l'ha portata! Com'è che... Ma ce l'ha fatto più punti! Si, l'ha portata la botola! Dai, Dominica, stacca! Mi sono mandando che killer sono! Ah, aggiorno! Prima di staccare vi faccio vedere che potenzio! Ma non è vero! Mi tolsi tutto nessuno! Che killer sei? Ok, livello no! Ora, è tutta la mia! Ok! Se faccio tutto questo livello, vado al 10! Vabbè, la live è finita qui! Siete lì! Arrivederci! Un saluto a tutti! Ho messo tutto! Ho messo tutto!